La ripartenza economica non accenna a ripartire e i saldi non hanno dato quella spinta che molti si aspettavano. A rendere ancora più drammatica la situazione sono le oltre 30 vetrine vuote che si possono vedere passeggiando tra le alcune vie del centro, come Via Verdi con solo un'attività commerciale aperta, Corso Campi con oltre 200 metri di spazio commerciali vuoti, Corso Garibaldi, Via Sofferino e molte altre vie che pian piano si stanno svuotando. Il centro storico di Cremona sta pagando la crisi Covid, le attività come in tutta Italia ovviamente stanno soffrendo, ci sono contributi, basta pensare a alcuni bandi che ho accennato prima, dove l'entità del contributo si parla di 400-600 euro, 1000 euro per chi ha avuto una perdita superiore al 50%, il contributo di questa entità non riesce a dare quell'ossigeno che si voleva. La difficoltà è che il centro storico così facendo muore. Noi facciamo di tutto per far sì che questo non accada, però se quando un'attività arriva alla difficoltà di mantenere in pari un bilancio, ovviamente se vai in perdita, gioco forza, non vale la pena mantenere in piedi un'attività. Le attività economiche del centro storico sono fondamentali sia per il turismo, ma anche per tutta l'economia del centro storico della città. Basti pensare anche, come dicevamo prima, al mercato immobiliare. Quando un centro storico si spegne, anche il mercato immobiliare del centro storico ovviamente subisce dei danni. Bisogna rilanciare a 360 gradi, cioè abbassare, ridurre il più possibile tutti i tributi, tutti gli oneri a cui un'attività è sottoposta. Bisogna invogliare a più non posso i cittadini ad andare ad acquistare in centro storico, ridurre il costo del parcheggio se non azzerare in modo tale da facilitare la sosta. Deve esserci la volontà, la voglia anche del cittadino, del cremonese ad andare a fare acquisto e riapprezzare ancora il contatto umano, il rapporto umano, visto che il Covid ha favorito sicuramente l'e-commerce che già sappiamo e quant'altro.